via salva a tutti amici youtube sono yavator kurama oggi vi porterò un video abbastanza particolare perchè ho trovato due giochini che se volete ve li porterò uno è illusion connection e l'altro è geogs sono due giochi che sto provando se li volete vedere scrivetemi sotto nei commenti se vi potrebbe piacere questi giochi ve li scaricate vi dirò anche i server il server su illusion perchè dovete avere quel server per avermi tra gli amici e niente ditemi se volete vedere questi due giochini sotto nei commenti ragazzi e io ve li porto tranne wild rift perchè è già difficile giocarci e se metto pure a farmi video pure sul lol sul telefono ancora peggio ragazzi